Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di giovedì sera. Il 7 giugno 2018 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei giornali che troverete oggi in edicola. Iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, l'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura riguarda lo scandalo Menze, vedete il titolo, primi tre indagati svolta nell'inchiesta Il Comune alle famiglie, portate i pasti da casa. Vediamo a centro pagina il calcio a 5, pubblico eccezionale ma la vittoria a Scudetto non arriva. Ieri sera gara 4 al Palagiovanni Paolo II di Pescara con l'Acqua e Sapone battuta però per 3 a 2. Dalla Luparense si va a gara 5 perché il successo dei Veneti permette alla formazione ospite, ha permesso alla formazione ospite di portare la serie sul 2 a 2. Dunque si andrà a gara 5 che si giocherà lunedì prossimo in terra Veneta. Dunque lo Scudetto verrà assegnato in Veneto con le due squadre ora sul 2 a 2. Peccato per l'Acqua e Sapone è arrivata davvero vicinissima alla conquista del Tricolore. Vediamo le altre notizie che riguardano Pescara e provincia. Fiaccolata per ricordare Ludovica e Marina. Non vi dimentichiamo ieri questa fiacchiolata partita dal liceo da Vinci di Pescara arrivata fino in Piazza della Rinascita dove ci sono stati poi alcuni interventi tra cui quello dell'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco. E poi la notte dello shopping chiude il corso di Pescara. Domani ci sarà questo primo appuntamento dedicato agli appassionati dello shopping soprattutto per questo caso in centro a Pescara. Cambiando pagina l'indagine del Cresa dice che un abruzzese su 5 rischia di diventare povero. Vediamo in alto altri richiami di notizie e articoli che ritroveremo all'interno del giornale. Rigopiano partono gli interrogatori. È stato fissato il calendario per questa seconda trascia di interrogatori. Il 26 giugno toccherà il presidente della regione Luciano D'Alfonso. E poi il governo Conte incassa la fiducia bis dalla Camera dopo quella arrivata in Senato. E poi il ministro Savona assolto a Teramo in un processo per usura. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Ospedali 208, nuovi posti di lavoro. L'Aquila, la Asla annuncia le assunzioni entro l'anno per medici e infermieri. L'arte di formichetti finisce sulla copertina di Playboy. Il pittore Pratolano dipinge il corpo di una modella. Vedete questa immagine. E poi siamo all'Aquila. Il rogo distrugge sei furgoni dell'Acquedotto. E poi Carsoli, il ristoratore trovato morto in casa. E poi andiamo ancora nella parte più bassa della pagina. Castel Dieri, operaio ferito mentre lavora nel cantiere. Vediamo anche la prima pagina del centro edizione di Teramo. Il rettore tasse più basse all'Ateneo, il neoeletto rettore dell'Università di Teramo, Mastrocona, parla dei suoi progetti, soprattutto promettendo maggiori servizi per gli studenti. Poi vedete, usura assolto al Teramo il ministro Savona, era imputato come vertice di una banca. Abbiamo visto anche prima il titolo. E poi Teramo, denunciato il molestatore del centro città, Giuliano Vaporto, si prepara un'estate piena di eventi. Nereto, casa di riposo, autorizzati altri 40 posti. Vediamo anche l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, sempre del quotidiano il centro. Si uccide dopo l'usura quattro condanne. Chieti un prestito di 50 mila euro e poi la tragedia. Inflitte pene fino a otto anni. E poi siamo ad Ortona. Due femminicidi, il PM Ergastolo per Marfisi. A Lanciano prete è aggredito e rapinato da un immigrato. Vediamo poi più in basso, spostandoci a San Salvo, polo scolastico. Il Tar sospende l'appalto. Vediamo l'ultima prima pagina, anzi, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Tre governatori in procura. Parliamo dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Sono dal 19 giugno gli interrogatori di Luciano D'Alfonso sotto accusa con chiodi del Turco, assessori e dirigenti per carta balanghe in ritardi nella gestione dell'emergenza. Poi vediamo il processo di Chieti per il uccise la moglie e un'amica per il PM. Merita l'Ergastolo, il processo nei confronti di Francesco Marfisi, processo che si sta svolgendo con il rito abbreviato. E poi vediamo l'articolo di spalla del messaggero. Rari De Luca incontra il pubblico al Teatro Tosti di Ortona. Andiamo a centropagina. Scandalomense, quattro indagati, aziende nel mirino. E poi Chieti, usura, maxi condanne per quattro bancari. E poi il calcio a cinque, ecco il sapone KO. Si va alla bella di lunedì prossimo in Veneto. E poi Gran Sasso, rischio ambientale. Spunta un report. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città. Beccato, siamo a Teramo, il manico del centro storico. Grazie alle descrizioni delle vittime, i carabinieri hanno denunciato un 31enne agricoltore terramano. Almeno quattro donne aggredite in un mese a Teramo. Poi, cambiando argomento, approvati i bandi delle periferie, il commissario sblocca 16 milioni di fondi. E poi la politica, perché siamo davvero alle fasi finali della lunga campagna elettorale per le amministrative. In questo caso parliamo di Montorio. Mi candido per ricostruire Montorio, devastata dal terremoto e dalle divisioni. Lo dice uno dei candidati a sindaco, Enio Facciolini. E poi, in basso, il 4 luglio, De Gregori, in concerto tra le mura della fortezza di Civitella del Tronto. Un'altra notizia che arriva, in questo caso, da Roseto degli Abruzzi, sui disabili, sfiorata la rissa in Consiglio Comunale. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali nazionali. Come sempre partiamo dal Corriere della Sera. Russia, la Nato frena l'Italia. Questo è il titolo di apertura. Fiducia a Conte, lite in aula sul conflitto di interessi. La flat tax è un caso. E poi, classifica delle università. La scalata di Milano e Pisa. Quattro università italiane. Nelle prime 200. E poi andiamo a vedere a centro pagina. Cambio di sede, proteste palestinesi. E l'Argentina, niente gara. Salta l'amichevole con Israele, Messi e compagni. No a Gerusalemme. E poi, paura degli spada. Le vittime del clan. Via dal processo. Criminalità. Non saranno parte civile. Vediamo Repubblica. Italia-Russia stop della Nato. Conte l'attacco di Cantone. L'anticorruzione ha fatto poco, ha detto il neo-premier Gaff. Poi, del premier su Pier Santi Mattarella. Il leader leghista flat tax. Bene per tutti. Il leader leghista è Matteo Salvini. Vediamo anche la pagina della stampa di Torino. Russia. La Nato avverte l'Italia. L'Alleanza Atlantica dopo l'apertura di Conte a Putin. Le sanzioni restino. Gli USA minacciano conseguenze. E poi, il governo riapre il caso TAV. Vediamo se ne vale la pena. Il sole 24 ore. BC è più vicina all'uscita dal che. Conte sulle debito. Fermezza con l'Unione Europea. Vediamo anche il fatto quotidiano. Cancello subito. Svuota carceri. E basta bavagli. Niente cella ai condannati fino a 4 anni. Mina la certezza della pena. Intervento sulle intercettazioni. E intanto fiducia anche alla Camera per il governo. 350 sì. Mentre sullo svuota carceri le parole sono quelle del Ministro della Giustizia. Buona fede. Andiamo a centro pagina. Le carte dell'indagine. Si parla di doping. Magnini e doping. Vediamo questo titolo. Chiesti 8 anni. Disqualifica. Il notatore intercettato. Mentre preparava le Olimpiadi. Siamo al manifesto. Conte, la Leprica è tutta una gaffa. La Camera passa la fiducia al governo. E poi vedete. Cambio. Si parla in questo caso del nuovo governo iberico. Siamo in Spagna. 11 ministri. 6 ministri. Dunque un governo rosa. E il governo spagnolo del cambio. Quasi tutto. Con tante donne. Nel governo del Premier Pedro Sanchez. Seppellita. L'era Raoi. Le solide basi di un esecutivo monocolore socialista. Tendenza. Zapatero. Scrive il manifesto. Il messaggero. La prima pagina nazionale. Fiducia a Conte. Piano sul debito. Il governo Movimento 5 Stelle e Lega ottiene anche l'ok dalla Camera. Con 350 sì. Tensione in aula. Con PD e Forza Italia. Il Premier dice. Saremo risoluti con l'Unione Europea. E spunta la proposta di trovare 40 miliardi. Con il deficit PIL al 3%. Processo spada. Le vittime assenti per paura. Abbiamo visto anche il titolo da Repubblica. E poi beffa degli asili nido. La laurea per maestre ora non è più valida. La riforma rende inutilizzabile il diploma anche per 50 mila aspiranti. insegnanti. E c'è anche un richiamo per quanto riguarda sulla prima pagina nazionale del messaggero, per quanto riguarda la tragedia di Rigopiano. Rigopiano isolato. Altri 14 indagati accuse alla Regione. Vediamo il tempo di Roma. Sarò il carceriere degli italiani. Lapsus forcaiolo del Premier. Verrà rispettata la presunzione di colpevolezza. E poi vedete top secret. Scuole, locali, case. Roma invasa da milioni di ratti. Ecco il dossier del Ministero. Che tengono nascosto. Libero. I clandestini si preparino a lasciare subito l'Italia. 40 mila tunisini irregolari da espellere. Il Ministro dell'Interno di Tunisi dà ragione a Salvini sui galeotti che sbarcano qui. Infatti lo cacciano. Il Vice Premier però va avanti. I centri d'accoglienza chiusi per identificare chi deve essere mandato via. Vediamo un altro quotidiano nazionale da vedere. La prima pagina della verità. La sinistra contro il taglio delle tasse. Salvini con la fa tax i ricchi che danno tanti soldi al fisco pagheranno di meno e potranno reinvestire creando benessere. Il Partito Democratico e l'EU si scatenano ma l'economista Lafferre li sbugiarda. La ricetta funziona. Conte sale in sella. Al G7 l'Italia si farà rispettare. Intanto come abbiamo visto è arrivata anche la fiducia che era praticamente scontata dalla Camera. Meno tetti più muri. Siamo al quotidiano del CEI avvenire. Fiducia abissa al Governo che vuole spendere oltre il 3% migranti chiusi nei centri di identificazione. A rischio 100 mila badanti. E poi, svolta in Africa, un titolo che non avevamo visto sulle prime pagine degli altri giornali, dopo 18 anni, l'Etiopia offre la pace all'Eritrea. E ora è attesa la risposta di Asmara. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Genova, il secolo XIX. Grandi opere, subito scontro. Toninelli, neoministro, dice si fanno solo quelle sostenibili. Rixi a Forza Italia, stop al fuoco amico. Andiamo in basso. Accusati di terrorismo ma risarciti dallo Stato. Genova, tre libici erano stati detenuti per 40 giorni. Ora saranno risarciti il mattino di Napoli. Terra dei fuochi, subito il decreto. C'è l'intervista al neoministro dell'Ambiente Costa. Non chiuderò gli inceneritori, ridurrò l'uso della plastica. Fiducia per Conte anche dalla Camera. Scontro sul conflitto di interessi via sanzioni alla Russia. Stop però della Nato. Il mattino era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo esaminato. Torniamo al quotidiano Il Centro per parlare del dossier del Cresa, il termometro del benessere, che ha regalato risultati non proprio incoraggianti. Con un'abruzzese su cinque che rischia la povertà, ricchi e indigenti, cresce infatti il divario. C'è chi fa un pasto adeguato solo ogni due giorni e chi non ha i soldi per riscaldare casa. L'11% delle persone al di sotto dei 60 anni vive in famiglie con problemi di accesso al mercato del lavoro. Il commercio intanto va verso il testo unico. La nuova norma per l'Abruzzo passa in commissione. Soddisfatte le associazioni di categoria. In basso vedete un progetto di legge contro le morti bianche. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinani, presenta il testo in regione e lo intitola La fortuna non basta. Andiamo avanti. L'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Via agli ultimi interrogatori. Il 26 giugno tocca ad Alfonso. La procura contro i vertici regionali determinarono le condizioni per il totale isolamento dell'hotel. Il governatore indagato, il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, dice abbiamo agito con diligenza. Vedete il calendario degli interrogatori che è stato fissato proprio nelle ultime ore. Si partirà il 19 giugno con Vincenzo Antenucci, Carlo Visca e Giovanni Savini. Il 20 giugno saranno ascoltati Ottaviano Del Turco, l'ex governatore, Tommaso Ginobile, Enrico Paolini e l'ex assessore Sur. Il 21 giugno l'altro ex presidente della regione, Giovanni Chiodi, Daniela Stati e Gianfranco Giuliante. Il 26 giugno toccherà al presidente della regione, Luciano D'Alfonso, al sottosegretario Mario Mazzocca. Si chiuderà il 27 con Silvio Liberatore e Antonio Iovino. Dunque questo è il calendario degli interrogatori che è stato fissato dalla procura di Pescara. Parliamo ancora della tragedia di Rigopiano, gestione dell'emergenza. Ecco le accuse dal comitato operativo riunito solo alle 15.30 del 18 gennaio alla mancata evacuazione del resort. Allora noi proprio sulla vicenda Rigopiano, su questa inchiesta, possiamo andare a vedere il primo servizio che fa un po' il punto della situazione. Vediamo. I carabinieri forestali hanno notificato gli avvisi di garanzia ai 14 nuovi indagati nell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che ha provocato 29 morti. Contestualmente gli indagati hanno ricevuto anche l'invito a comparire per essere interrogati dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia. Gli interrogatori si terranno dal 19 al 27 giugno. Tra gli indagati anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che sarà interrogato secondo quanto si apprende il 26 giugno alle 9. Ad Alfonsio e ad altri tre indagati, ossia il sottosegretario regionale Mario Mazzocca e il responsabile della sala operativa della protezione civile Silvio Liberatore, il dirigente del servizio di programmazione di attività della protezione civile Antonio Iovino, viene contestata anche la tardiva convocazione del comitato operativo regionale per le emergenze. Notificati anche gli avvisi di garanzia agli ex governatori abruzzesi Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi, all'ex vicepresidente della regione Abruzzo Enrico Paolini e ai cinque assessori alla protezione civile che si sono susseguiti dal 2007 al 2017. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Questo filone dell'inchiesta punta a ricostruire la gestione della prevenzione e nello specifico ad individuare eventuali responsabilità nella mancata realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanghe richiesta dalla legge regionale del 1992. Nello specifico il 19 giugno saranno interrogati Antenucci, Visca e Savini, il 20 giugno del Turco, Ginobile, Paolini e Srour, il 21 giugno Chiodi, Stati e Giuliante, il 26 giugno D'Alfonso e Mazzocca, infine il 27 giugno sarà la volta di Liberatore e Iovino. Cambiamo argomento, il congresso nazionale dell'Arci, quattro giorni contro le paure, intervista alla Presidente Chiavacci, da oggi 530 delegati a Pescara discutono di solidarietà, diritti e migranti, presenti tanti personaggi illustri come il segretario nazionale della generale nazionale della CGL Camusso, Don Ciotti, l'ex ministro Maurizio Martina, Fratoianni e tanti altri. E a Chieti arriva il procuratore antimafia, vedete il titolo in basso, Cafiero Derao, dibattito con Monsignor Forte, con il Vice Presidente del CSM Legnini, sul libro Denuncia. Andiamo avanti, elezioni verso quelle che riguardano il rinnovo del Regione. D'Alfonso, il 5 luglio, udienza su due incarichi, governatore e senatore, la sfida politica si sposta nel Tribunale dell'Aquila, sarà il giudice Daria Lombardi a decidere sul ricorso presentato dal Movimento 5 Stelle. E poi guardie mediche, sì alla sospensione dei recuperi. Andiamo avanti, siamo a Pescara, lo scandalo delle mense, tre indagati per i bambini intossicati, potrebbero essere anche quattro, l'abbiamo letto prima dal messaggero. Si tratta dei due amministratori dell'ATI, costituita da Bioristoro e Sir Food, e del responsabile sugli alimenti. La CIR si difende e dice, i nostri cibi non centrano le infezioni da Campylobacter, dicono sono associate al consumo di acqua e latte contaminati. Ma dunque proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto. Il comune parte l'esa, lo ha detto l'assessore Giacomo Cuzzi, che ha ancora poi aggiunto, saremo durissimi con gli eventuali colpevoli. Allora noi possiamo andare ad ascoltare proprio l'assessore che ha la delega all'istruzione, anche alle mense scolastiche, Giacomo Cuzzi. Saremo durissimi nei confronti dei responsabili, saremo duri nel portare avanti questa battaglia, ripeto, a fianco delle famiglie, perché i ragazzi davvero rappresentano il futuro della nostra città e noi su questa vicenda ci vogliamo vedere chiaro. Ci vogliamo vedere chiaro. Io per venerdì ho convocato anche le presidi degli istituti comprensivi, anche per trovare una soluzione per coloro i quali dovranno frequentare le strutture scolastiche fino al 30 di giugno, per immaginare anche la possibilità di mangiare all'interno della scuola portando il pasto da casa, quindi dando una soluzione anche alle tante famiglie che hanno già programmato le ferie e che si trovano in difficoltà per questa spiacevole e triste vicenda. Un'altra considerazione importante da fare è che l'ASL ieri ci ha comunicato che qualora vorressimo riaprire le mense, ma che noi non riapriremo per questo anno scolastico dobbiamo effettuare delle disinfestazioni all'interno dei centri cottura e all'interno dei luoghi di refettorio delle scuole. Quindi questo anche attesta la bontà del nostro operato circa la sospensione lunedì mattina del servizio mense e quindi delle aree di refettorio che oggi sono chiuse su cui effettueremo questa disinfestazione. Quindi le altre aree scolastiche ha garantito anche l'ASL ieri in commissione che sono frequentabili e quindi abbiamo fatto bene anche a mantenere le scuole aperte. Le opposizioni hanno alzato la voce, c'è anche chi ha chiesto le sue dimissioni? Ma io credo che su una vicenda che riguarda i bambini non bisogna fare strumentalizzazione politica per raccattare qualche voto. Noi su questa vicenda siamo parte l'ESA, il servizio mensa è esternalizzato quindi non è diretto dal comune, il comune è evidente che parte l'ESA insieme ai bambini, insieme alle famiglie e è il primo soggetto che vuole fare chiarezza non solo per la salvaguardia dell'ente, per l'immagine ma soprattutto per la salute pubblica, per la salute di questi bambini che hanno dovuto soffrire questa patologia e per le loro famiglie che in questi giorni hanno avuto delle giornate sicuramente difficili. Andiamo avanti, siamo sempre sul quotidiano Il Centro, la tragedia del 20 maggio scorso in 300, ieri a Pescara con le fiaccole per ricordare Marina e Ludovica, corteo partito dai Colli, arrivato a Piazza della Rinascita per ricordare madre e figlia uccise il 20 maggio e le altre vittime della violenza sulle donne. Proseguiamo. Picchia gli agenti ma resta sempre libero, parcheggiatore abusivo, aggredito vigili e poliziotti, lunedì sera l'ennesimo arresto, condannato e subito scarcerato. Poi ancora Pescara, colpo di pistola in comune, il vigile è tornato al lavoro e poi pensionata rapinata in strada, il responsabile resta in carcere. Mare, peggiorano i dati nelle zone inquinate, le ultime analisi dell'arta indicano un aumento dei colibatteri all'altezza di via Balilla e via Galilei. E poi a Pescara, questa mattina, il congresso dell'UGL a partire dalle 10. E poi ancora la cronaca, operazione della Guardia di Finanza, sequestrati 120.000 giocattoli per bambini in un negozio del centro, appello ai cittadini, segnalate le irregolarità. Torna l'Ironman, domenica chiude anche l'asse attrezzato a Pescara, al via da domani la famosa gara di triathlon, oltre 1.500 gli iscritti, ma non ci sono atleti professionisti. Ieri la presentazione dell'evento in comune a Pescara. E sempre ieri a Pescara è stata presentata la notte dello shopping, che si terrà domani a partire dalle 19, traffico bloccato in Corso Vittorio e Via Fabrizio. Oggi nel corso del nostro telegiornale e delle varie edizioni vi proporremo il servizio sulla presentazione di questa manifestazione, che vedrà musica, moda e animazione fino all'alba. In basso il giardino di Alanno rinasce con i ragazzi di architettura, questo il progetto dell'Università e dell'ITAS. Andiamo ancora avanti, oculistica, caschetti da videogiochi per cataratta e retina, ospedale, tecnologia altamente sofisticata, per le operazioni nel reparto di oculistica dell'ospedale di Pescara, diretto dal primario Marullo, 2.200 interventi all'anno. Siamo a Montesilvano, patto tra quattro comuni, sempre più telecamere. Montesilvano sottoscrive infatti l'accordo con Pescara-Spoltore e Città-Sant'Angelo. E poi barriere antirumore, ok ai lavori lungo il tracciato ferroviario, sicurezza in mare, prove di salvataggio con i cani allo stabilimento Trocadero. e poi Montesilvano, Sporting Tour 2018, da oggi con le acri. Il porto turistico sarà pronto in due anni, siamo a Città-Sant'Angelo, quest'estate i sondaggi in mare, in autunno la presentazione del progetto definitivo. E poi il via ai lavori, spaventa, folla al concerto finale, Città-Sant'Angelo, teatro strapieno e applausi a scena aperta a tutti gli allievi. E a Montesilvano il 30 giugno, vedete l'articolo in basso, torna il premio Massimo Riva. Andiamo a vedere un'altra pagina del centro, siamo a Francavilla, l'auditorium è costato 103 mila euro al comune, l'associazione Aria Nuova fa i conti sulle spese di gestione del Sirena. Il sindaco Luciani replica, prima stagione chiusa senza debiti e con tante soddisfazioni, ma è polemica anche per la vendita della piscina comunale che è stata contestata dalle opposizioni in Consiglio Comunale a Francavilla e sempre nella cittadina adriatica, oratorio San Franco al via l'estate dei ragazzi. In basso San Giovanni Teatino, scuola Voitira, festa di fine anno, gli alunni protagonisti del villaggio sportivo. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda la zona Vestina e l'Alta Val Pescara, siamo a Bussi sul Tirino, Bussi intravede la rinascita, Filippi annuncia 180 assunzioni, l'imprenditore Vicentino a capo del colosso farmaceutico illustra al paese il progetto di insediamento, il nuovo stabilimento e in addirittura d'arrivo. La prima pietra, dice, sarà posta entro il prossimo dicembre. E poi Penne, il sindaco Semproni, dopo il Giro d'Italia ciclo via nella città Vestina. Multe morali dai baby vigili di Penne, i bambini delle seconde dell'Istituto Comprensivo Operatore, in azione con gli agenti della Polizia Locale. In basso a Loreto Prutino, la corista dei Pink Floyd, al raduno nazionale dei fan chieti. Usura all'agricoltore, quattro condanne, un prestito di 50 mila euro, si trasforma in un incubo, tanto che l'uomo si toglie la vita. Pena di otto anni ad un ex direttore di banca. Sono ai domiciliari, ma rubano e finiscono in carcere. Pene di cinque anni a testa per tre romeni scoperti con armi da guerra e oggetti rubati per 100 mila euro. A Lanciano, prete aggredito e rapinato da un immigrato. Don Michele Di Lorenzo, picchiato e derubato dopo aver dato alcuni euro al giovane. Piovenza di gruppo e ricatti a vasto. Mio figlio non ha abusato della ragazza. La mamma del 17enne è arrestato con un coetaneo, respinge le accuse, giudicato prima che siano accertati i fatti. Ancora vasto. Sgomberato alloggio popolare, occupato abusivamente. Gli otto cubi restano sotto sequestro. Blocchi di cemento sbriciolati a vasto. La procura convalida il provvedimento, attesi i risultati delle analisi. Siamo sempre nella città aragonese. La polizia va in comune per il cimitero. Gli agenti acquisiscono vari documenti, tra cui il registro delle tumulazioni degli ultimi 20 anni. Duplice femminicidio di Ortona. La procura chiede l'ergastolo per Marfisi. L'accusa parla di piano premeditato per uccidere moglie amica. E non è stato un raptus la rabbia dei parenti che dicono vogliamo giustizia. Siamo a D'Ortona. Tartaruga curata e liberata in mare a Fossacesi. A vetrine per i produttori locali. Bando del comune per esporre olio e vino a San Giovanni in Venere. E sempre a D'Ortona. In basso sul palco 800 musicisti. Applausi al concorso bandito da Lions Club. Borse di studio donate ai vincitori. Siamo a Teramo. Usura bancaria. Scusate, è stato assolto. Il ministro Savona era imputato come ex presidente della Banca di Roma dopo la denuncia di due correntisti per il GUP. Il fatto non sussiste. E poi siamo all'Università di Teramo. Le priorità di Mastrocola. Più servizi e tasse più basse. Il nuovo rettore dell'Università si è insediato. Vedete nella foto la stretta di mano con il rettore uscente Luciano D'Amico. Noi andiamo ad ascoltare proprio ai nostri microfoni le parole del neo rettore dell'Università di Teramo. Dino Mastrocola, prorettore vicario e ordinario della Facoltà di Agraria, è il nuovo rettore dell'Università di Teramo. Succede a Luciano D'Amico e rimarrà in carica per sei anni accademici fino al 2023. Mastrocola ha ottenuto 262 preferenze, superando il candidato Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, che ne ha incassate 202. Commosso per il risultato il nuovo rettore Mastrocola, è felice l'uscente D'Amico, che assicura che resterà ad insegnare nell'Ateneo Teramano un cambio al vertice, ma sulla stessa linea d'onda. Nel segno della continuità, ma sicuramente con qualche novità. Certo, in questi mesi ho ripetuto spesso che non si può parlare né di continuità né di innovazione, ma mi piace parlare di continuare ad innovare. E penso che di impostare tutto il mio futuro rettorato in questo modo. Il solco tracciato da Luciano D'Amico è un solco importantissimo. Basti pensare che cosa era l'Università di Teramo a fine 2012, che cos'è l'Università di Teramo adesso. Quindi con un ruolo importantissimo nella città, in regione e anche a livello nazionale, internazionale. Lei gestirà anche la ristrutturazione dell'ex manicomio? L'operazione ex manicomio è un'operazione che solo pensarci sembra una montagna che non si possa scalare. Invece è un progetto ambizioso, ma è un progetto che ci porterà a tornare nel centro della città, a creare, come ha sempre detto Luciano D'Amico, una cittadella della cultura, che non sarà solo la sede di un corso di laurea, di una facoltà, ma sarà il cuore pulsante culturale della città. E quindi non si può dire all'Ateneo non dovete gestire gli spazi come se fossero solo vostri, perché l'Ateneo gestirà quegli spazi come ha sempre fatto, come servizio per i propri studenti, per i propri docenti, per il proprio personale, ma anche e soprattutto per la città. Incidente mortale, prosciolti due tecnici, vedete l'articolo con il titolo nella parte bassa della pagina, dipendenti della provincia finiti a processo per un automobilista precipitato in una scarpata, schiacciato dal carroponte, cinque a processo, tortoretto due anni fa l'infortunio in cui morì il 36enne, operaio, figlio dell'ex capo dei vigili urbani di Montesilvano, e poi tortoretto, ispezioni alle mense scolastiche dopo le intossicazioni a Pescara, rozzi, la regione autorizza 40 posti letto, nereto, ora si potrà rispondere alle tante richieste di ricovero alla casa di riposo in basso, spettacoli, De Gregori inizierà il suo tour dalla fortezza di Civitella del Tronto, il 4 luglio, Pineto 2.0, Ascerne, spiagge libere in stato di abbandono, l'associazione denuncia il grave stato di incuria, in alto, vedete Silvi, ride notturno alla casetta dell'acqua, distributore forzato per rubare le monete del vecchio, la priorità è il lavoro, siamo a Silvi, si parla di amministrative perché si tornerà il voto anche nella cittadina riverasca, la priorità è il lavoro, lo dice l'aspirante sindaco di Silvi in comune, i 5 Stelle, chiudono invece la campagna elettorale in piazza Marconi, Atri, Italia Nostra ai candidati, chiede la pedonalizzazione del centro cittadino, Maretta in consiglio, sfiorata la rissa tra Ciancaione e Aloisi, siamo a Roseto, la consigliera parla alla telecamera e la maggioranza si sposta provocatoriamente dai banchi per sedersi tra il pubblico, sempre Roseto, via libera agli accordi comunali complessi. E poi parte della Casa Rosa, destinata al 118, è stata approvata la mozione del PD, contraria la consigliera di Liberi Uguali, che dice che dovrà invece essere utilizzata dai disabili. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, del centro, inferno di fuoco, carbonizzati, sei furgoni dell'Acquedotto, proprio nel capologo di Regione, in basso, la funivia non chiuderà nei mesi estivi, rinviate a settembre i lavori per la manutenzione ventennale dell'impianto. Proseguiamo per vedere un'altra pagina del quotidiano, il centro, Castel di Eri, incidente nel cantiere, ferito, un operaio, Castel di Sangro, nuovo amburatorio oncologico e a Carsoli, ristoratore trovato senza vita in casa, ucciso forse da un malore. E ad Avezzano, funerali nella chiesa di San Pio X per il ciclista morto nei giorni scorsi. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo ora fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, ripartiamo dall'inchiesta di Rigopiano, le responsabilità della Regione per l'hotel isolato, formalizzate le accuse contro D'Alfonso e due predecessori, carta valanga e mancato sgombero dal 19 giugno, il via agli interrogatori. E poi l'arma in festa, ieri cerimonia della Regione Carabinieri Abruzzo-Molise a Campobasso. E poi l'indagine del Cresa, un cittadino su cinque, il rischio povertà in aumento, le disuguaglianze sociali. Siamo a Pescara, scandalo Mense, quattro indagati, ne abbiamo parlato prima, abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni dell'assessore Giacomo Cuzzi, che ha ribadito come il Comune sia parte l'esa in questa vicenda. Pediatria si svuota, avvocati in azione. E poi in basso la cronaca, maxi sequestro di giocattoli da spiaggia da parte della Guardia di Finanza. E poi no al femminicidio, 300 fiaccole in corteo per Marina Ludovica e le donne vittime di violenza. Notte dello shopping, sfidagli per domani a Pescara. E a seguire ci sarà l'Iron Man, ma senza professionisti. In basso gli eventi per quanto riguarda Pescara, donne del jazz e memorie di vita. Ecco Laura il CD di Assunta Menna. E poi da Camusso a Don Ciotti, grandi ospiti per il congresso nazionale dell'Arci. Rapinatore violento, sempre in libertà furia cieca. Il 28enne Ivoriano diventa un caso in città più volte arrestato e sempre scarcerato. In attesa di giudizio. E poi Montesilvano aderisce al patto per la sicurezza. Protocollo con Prefettura ed altri comuni dell'area metropolitana. E poi un corteo di 150 barche sul fiume per la ricorrenza di San Cetteo, il patrono di Pescara. In basso, promozione culturale Penne ritrova la sede dell'Agenzia. Pienone e grandi alberghi del comprensorio pescarese per la presenza degli atleti dell'Aclì. Siamo all'Aquila, restituzione delle tasse post-sismo. Un emendamento per sperare. E poi Asl, Tordera annuncia assunzioni e stabilizzazioni. Areverdi, parco del sole. A fine mese, restyling terminato. E poi in basso incendio alla GSA. Cinque mezzi distrutti. E poi a rischia l'esplosione nel garage. Affidata una perizia per chiarire l'accaduto. Sassa scatta la mobilitazione dei residenti. Assemblea civica contro il progetto che ha ridisegnato l'assetto della viabilità nell'area e penalizzato il commercio. A Strange Office, un innovativo simulatore sportivo e appoggio Picenze, tornano le campane. Rinasce la chiesa ottagonale di Santa Maria. Lucoli sceglie il sindaco. C'è una lista di sole donne. E poi per quanto riguarda la cultura, i libri in particolare, la scrittice Lorenzitto al caffè letterario. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Sicurezza sindaco e cascere dal prefetto. Siamo ad Avezzano. Arrivano altre dieci telecamere intelligenti ad Avezzano. Carsoli trovato morto da cinque giorni. Disposta l'autopsia. E poi sul Mona, altro guasto sul treno. Pendolari infuriati. Ancora sul Mona, asilo nido, Isola Felice. Trovata la soluzione. Tornando ad Avezzano. Il PD chiede di non cancellare. Giurisprudenza. Castel di Sangro. SRSA bloccata. Appello alle istituzioni. Siamo a Chieti. La cronaca giudiziaria. Soldi a strozzo. Quattro condanne. Otto anni a un direttore di banca. E poi Chieti Solidale. Associazioni ripuliscono la zona del villaggio Celdit. Veicoli elettrici. Arrivano 15 colonnine di ricarica. E poi si parla di università in basso. CNA Ateneo. Premi su tesi di interesse economico. La conferenza stampa si è tenuta nei giorni scorsi. a Pescara nel Dipartimento di Economia dell'Università d'Annunzio. Siamo ad Ortona. Uccise moglie amica. Chiesto l'ergastolo per Francesco Marfisi. Lanciano. Aggredito e rapinato. Don Michelino Di Lorenzo. Abbasto. Polizia in municipio. Inchiesta sul cimitero. Avevamo visto anche questo articolo sul quotidiano. Il centro. Siamo alla pagina di Teramo. Del messaggero. Acqua del Gran Sasso. Report. Segnala i rischi. Laboratorio. Un documento. Segnala i due possibili elementi inquinatori. Il forum dell'acqua da parte degli enti preposti. Finora solo un muro di gomma. Si è parlato di tutto questo ieri a Pescar. Abbiamo portato ai nostri microfoni proprio l'esponente del forum abruzzese dell'acqua. Augusto De Santis. Vediamo. Sicurezza dell'acquedotto nei pressi dei laboratori del Gran Sasso. De Santis avete ricevuto un documento anonimo che parla proprio di tutto questo. Vogliamo un attimo spiegare di cosa si tratta. Lo abbiamo ricevuto da un anonimo. Il documento appare firmato dal professor Guerscio che aveva ricevuto l'incarico l'anno scorso dall'Istituto di Fisica Nucleare. Cosa anche un po' particolare perché l'Istituto di Fisica Nucleare dovrebbe fare ricerca e non fare acquedotti. Quindi per fare questo progetto di messa in sicurezza forse bisognava coinvolgere la regione oppure l'acquedotto del Ruzzo. Comunque è arrivato questo documento che pare originale. Attendiamo dagli enti la veridicità dei contenuti. Questa relazione è datata marzo 2018 e contiene, sono 43 pagine, alcune proposte per la messa in sicurezza. L'autore è un professore universitario, un ingegnere che era stato coinvolto anche nel passato, dieci anni fa, con il commissario del governo Balducci, che ha speso 84 milioni di euro dieci anni fa per mettere in sicurezza la situazione e adesso possiamo dire che non ha risolto. E adesso dopo dieci anni le proposte sono simili a quelle di allora e cioè si interviene a valle con dei potabilizzatori. Insomma non si fa la prevenzione. Nell'acqua potabile bisogna non fare inquinare l'acqua. Uno può fare pure i tubi d'oro, però i tubi d'oro porterebbero comunque acqua inquinata qualora ci potrebbe essere un grande incidente dentro i laboratori. La priorità invece è togliere le 2200 tonnellate di sostanze pericolose stoccate irregolarmente all'interno dei laboratori. Se non si parte da lì si possono fare, ripetiamo, tutti gli interventi che vogliamo. Alcuni sono anche positivi, non i potabilizzatori, ma rifare il tubo per esempio e così via, ma non risolverebbe il problema a monte. Le falde non vanno contaminate, questa è la prima regola per l'acqua potabile. Intervenire a valle si rincorre alla contaminazione e non possiamo permettercelo. Andiamo avanti, operazione della polizia, 2000 euro per falsa consegna di computer al nipote, arrestato e poi identificato il molestatore delle donne in centro storico a Teramo e poi la morte di Dottavio Scaggionati, i funzionari in basso, si parla di amministrative, di Dalmazio svela due nomi, Dalberto Enologo. Andiamo avanti, festa del mare per un'estate da ricordare, siamo a Giulianova, ha costituito il programma Terra Mare Abruzzo 2018 tra la Camera di Commercio, l'Enteporto e la Regione. Ancora Giulianova, tutti i postini nel deposito di Scerni e poi Colleranesco, sospesi i lavori della scuola, grido d'allarme del consigliere Costantini. In basso siamo in Val Vibrata, è tempo di feste, rionali e sagre, si comincia con quella della seppia. E poi a Tortoreto, la morte di Federico Agostinone sul lavoro, cinque titolari di aziende a giudizio. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo attendere perché dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo dalla cronaca regionale, dalla vicenda dell'hotel Rigopiano. La Regione lasciò isolato l'hotel Rigopiano, un nuovo filone d'inchiesta della Procura di Pescara sulla tragedia costata la vita a 29 persone. Sempre a Pescara la Procura apre un'inchiesta per l'epidemia, l'intossicazione alimentare dei ragazzi di alcune scuole cittadine. Acqua sicura, ultimatum a strada di parchi e laboratori, Lolli pretende i progetti entro il 19 giugno. Giallo sulla diffusione di una presunta relazione di cui abbiamo appena parlato nel servizio, nell'intervista che abbiamo visto qualche istante fa. Approvati i bandi delle periferie. Siamo a Teramo. Il commissario Pizzi libera 16 milioni di fondi per la rigenerazione urbana. E poi scontitari per chi adotta cani e gatti randaggi. La proposta di Domenico Antonio fa due conti sul problema randaggismo. Individuato a Teramo il manico del centro storico, grazie alle testimonianze delle vittime, i carabinieri hanno denunciato un agricoltore di 31 anni. Operazione della Polizia. Truffatore d'anziani beccato in zona Castello. Aveva truffato 2.000 euro ad un settantenne. Terramano di Dalmazio lancia due possibili assessori. Fausta di Berardo all'inclusività e Mauro Carnovale. Alla semplificazione. Sitina Teramo per la morte di Somaila. E poi andiamo avanti. Enoteca regionale per dare un senso all'ipogeo. Termo 3.0 e il consigliere regionale Bracco rilanciano l'idea già proposta dai banchi dell'opposizione. ITS, ponte tra scuola e impresa del Made in Italy. Presentati i risultati del progetto I Cinque Sensi nel settore agroalimentare rivolto agli studenti dell'Istituto di Poppa. E poi Confartigianato. Artigianato in cattedra. Ecco le classi premiate dal concorso proprio propagandato da Confartigianato. Siamo a Montorio Alvomano. Montorio Alvoto. Facciolini. Mi candido per ricostruire un paese. Il candidato sindaco punta sulla ricostruzione politica per superare le divisioni e è materiale per superare il terremoto. In basso le proloco potranno occuparsi di turismo e promozione per i comuni. Nasce l'albo unico sotto il coordinamento regionale per gestire musei, rifugi, accoglienza e case per ferie. Siamo in Val Vibrata. Nereto. Nuova sede per la protezione civile San Martino. E poi Parco Marino al fianco dei Vongolari. Preoccupazione per lo stop alla pesca causato dall'inquinamento. Tortoreto. Premio alla cultura con pienone per Marco Travaglio e Marco Cassini. Vi abbiamo proposto tra l'altro nei giorni scorsi anche un servizio con l'intervista al giornalista del fatto Marco Travaglio. E poi in basso viabilità, segnaletica invisibile e strade Colabrodo. In Val Vibrata. Siamo alla pagina di Giulianova. Patteggiamento per lo scambio di provette. Un anno e dieci mesi per l'automobilista che ha corrotto l'infermiere. E poi polemica tra Coba e sindaco sulla polizia delle spiagge Giulianova. Bloccati i lavori alla scuola Colleranesco. Preoccupati Costantini e Ciafardoni. Il Comune assicura che riprenderanno presto in basso. Siamo a Mosciano. Potatore di olivi. Professione del futuro. Per avere un olio migliore. Oltre 30 le persone che hanno partecipato al corso organizzato dallo Slow Food Giulianova. Val Vibrata. Siamo alla pagina di Roseto. Al Consiglio Comunale dunque alla politica. Rissa sfiorata tra Aloisi e Ciancaione. Alta attenzione tra i due consiglieri dopo un acceso dibattito sui fondi per i servizi riservati ai disabili. E poi sempre a Roseto. Approvata la risoluzione per il 118 alla Casa Rosa. Il PD assicura che non ci saranno problemi per il dopo di noi. Ancora avanti. Siamo a Silvi dove si andrà al voto domenica prossima. Apriamo il Comune a tutti i cittadini. Antonio Del Vecchio presenta il suo programma e si dice sicuro di arrivare almeno al ballottaggio. Ci spostiamo ad Atri. L'anno scolastico dello Zoli si conclude nel segno della solidarietà. Oggi al Teatro Comunale la cerimonia di premiazione del concorso Uno Sport per la Vita promosso dall'Avis Ducale. Sguardi di donna per storie diverse. Emanuela Canepa, Laura Calosso e Sabrina Nobile. Così il romanzo racconta la vita. Lo sport obiettivo di Renzo con l'incognita cessioni. Siamo al Teramo che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. Con Zichella in panchina che ha posto l'attaccante della Prosesto proprio di Renzo in cima alla lista. Ma prima i conti devono tornare e dunque bisognerà cedere. E poi Pineto nel weekend gli internazionali di mountain bike in basso. Sport estivi, beach sport, il calendario di eventi di Alba Adriatica sulla sabbia. Torniamo al messaggero per vedere la prima pagina di sport. Si parla di mercato in casa Pescara. Ricci e Buchel, idee low cost, i giovani al centro del prossimo mercato del Pescara. Ma c'è da battere la concorrenza del Carpi. E poi c'è l'intervista all'ex portiere del Pescara, Salvatore Pinna. Fiorillo, dice Pinna. Capitano è la scelta giusta. In basso Teramo in pressing sul bomber di Renzo. Lo ha richiesto Mirster Zichella. La società valuta la possibile separazione e dunque partenza di alcuni big. Acqua e sapone che peccato. Si va alla bella. Pescaresi battuti in gara 4 ieri al pala Giovanni Paolo II per 3 a 2 dal Luparenze. Si andrà a gara 5 che si giocherà lunedì prossimo in Veneto. Il presidente dell'acqua e sapone Barbarossa dice gara 5. Sarà tutta altra storia. Vediamo anche la mezza pagina consueta del giovedì sul messaggero dedicata alla Wisp. Una finale spettacolare. Titolo regionale Wisp Abruzzo 2018. Il Kral centra il double 3 a 3 ai tempi regolamentari. Alla lotteria dagli 11 metri. La spunta la squadra di Mister Galanti. E andiamo a vedere le pagine dello sport del centro. Prima di salutarci torniamo a parlare del Pescara. C'è un'intervista a Proietti che prenota il riscatto. Voglio restare a Pescara il centrocampista reduce da un infortunio. vuole provare a ottenere il riscatto nella prossima stagione. E intanto l'ex direttore sportivo del Pescara Peppe Pavone torna al Cavese. Sarà il nuovo consulente tecnico. In basso si parla dei play-off perché ieri si sono giocate le gare di andata delle semifinali. Due pareggi con identico risultato. Uno a uno a Cittadella tra Cittadella e Frosinone. Stesso risultato al Penso tra Venezia e Palermo. Domenica si giocheranno a campi invertiti. Le gare di ritorno. Teramo caccia i giovani. Graziano verso la conferma. Il DS Federico pensa ad alcuni profili delle squadre primavera di Inter. Fiorentina-Juve. Il mediano potrebbe restare in bianco-rosso. Difficile arrivare a Proietti del Pescara di cui abbiamo parlato qualche istante fa. E intanto il Castel di Sangro vince in Molise. Spera nel ripescaggio. In questo caso parliamo dei play-off di prima categoria. De Cecco Frena farò solo lo sponsor del Real Giulianova. L'imprenditore pescarese smentisce il suo ingresso nel club dopo l'incontro con il presidente giallorosso Bartolini. E intanto è fatta per Ruffini che sarà il nuovo direttore sportivo della Bastese. Parliamo di atletica. Domenica la rappresentativa Cadetti Abruzzese sarà a Fidenza. Vediamo un'altra pagina di sport. Quella dedicata, anzi due sono le pagine dedicate al calcio a 5. Con l'Acqua e Sapone che si inchina alla Luparenze che passa al pala Giovanni Paolo II per 3 a 2. Lunedì sera a Bassano ci sarà la partita che varrà il tricolore. Perez ora dice eliminare le scorie di questo KO, il tecnico dell'Acqua e Sapone. L'orgoglio di Marin non molliamo mai. E come detto lunedì si giocherà a gara 5 con lo Scudetto in palio. Parliamo di basket. La finale play-off di Serie D di pallacanestro maschile. Azzurra in ginocchio, il Chieti fa festa e vola in Serie C Silver. Questa era l'ultima pagina dello sport del centro. Ma abbiamo il tempo per andare a vedere anche le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Milan-Gioventù baciata dopo l'accordo con Romagnoli. Pronto il rinnovo di Cutrone. Obiettivi di mercato per restare ancora la più giovane della Serie A. Una carta per Dembélé. L'Inter offre Joao Mario per convincere il Tottenham. Higuain out. Il Epipita è tentato dalla Premier. Potrebbe lasciare il Napoli. E intanto Cristante firma e giura fedeltà la Roma. Sono pronto. Nainggolan riecco la Cina. E poi no dell'Argentina all'amichevole. Furia israeliana. Vediamo anche la prima pagina del Corriere dello Sport. Higuain verso la Premier. Cristante è a Roma. Ha già firmato. Vedete la foto con la sciarpa giallorossa. L'anno del Biscione. Con intanto l'Inter. Che chiama Nainggolan. Infine tutto sport. Italia pazza di Cech. Cechinato. Campione fatto in casa. A 17 anni dalla Sicilia a Caldaro. Per diventare grande. Sta facendo sognare l'Italia del tennis. Cechinato. E poi il calcio. Scambio Higuain-Icardi. Arriva il primo sì. Toro-Perez è fatta. Malcom sì all'Inter. Nainggolan in Cina. Napoli su Santimina. E poi il campionato di Serie B. Venete da rimonta. Ma gli 1-1 spingono. Frosinone e Palermo. Che sono più vicine alla finale. In vista delle gare di ritorno. Che si giocheranno domenica prossima. E dunque in programma. Le partite che decideranno. E quali saranno le due squadre. Che si giocheranno. La promozione. In Serie A. Siamo così giunti al termine. Dell'appuntamento di oggi. Con Mattino 6. Io ringrazio Silvia Gentile. In regia. Ringrazio voi per averci seguito. Mattino 6 tornerà domani. Puntuale alle 8. Il prossimo appuntamento informativo. della giornata. Invece è previsto per le ore 14. Con la prima edizione del nostro telegiornale. E poi vi ricordo ancora. Questa sera in diretta. Alle 21. Dai nostri studi. L'appuntamento classico del giovedì. Con velo condotto da Jacopo Forcella. Con Luciano Rabottini. È davvero tutto. Buona giornata. Buona giornata.